Io ho detto sollevala e portala verso il muro. Lui l'ha sollevata in un modo nuovo rispetto alle prove in quel momento e cioè gli ha infilato la mano tra le cosce, l'ha alzata e l'ha portata lì. Io ho voluto fare un piano sequenza perché mi sembrava che, voglio dire, un piano lungo, non c'è quasi montaggio qui. Ecco qui sta strappando il collant. E da quello che vedevo ho sentito il bisogno di andare avanti con la macchina da presa e c'è questa carremata. L'operatore naturalmente deve essere molto attento. E a questo punto lo si baciano ancora e cominciano a scivolare per terra. È molto strano di vedere questo commentandolo così. Ecco qui vanno per terra. Beh, non discuto gli aspetti artistici, ma questa descrizione fa pensare a quello che con un certo disagio ho visto qualche volta visitando qualche allevamento di razze equine. Comunque adesso Brandon Brando è morto, lasciamolo in pace. Grazie. Grazie.